Questo video contiene alcune scende di violenza Se pensate che vi possa dar fastidio vi sconsigliamo la visione Ho fatto 965 Perfetto, perfetto, perfetto Eccomi, sali, 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 sali Vai! Ma che dai pugni? Ma che dai pugni? Sali! Muoviti Ma da Zico Zago Io accetto Io accetto di fare Brother for Life Tu accetti E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef e questo giochiamo a GTA V Ebbene sì, in tantissimi ci avete chiesto di giocare GTA nel mondo dell'online, nel mondo normale E quindi abbiamo pensato a una serie che secondo noi vi potrebbe piacere davvero tanto Esattamente, in che cosa consiste? È molto semplice Partiamo con un personaggio a livello 1 che stiamo creando in questo momento L'obiettivo quale sarà? Diventare ricchi Diventare ricchi nel gioco di GTA Online, quindi nel mondo online Ma nel mondo proprio? Chi è che non vuole essere ricco? Dimmi, chi è che non vuole essere ricco? Riuscire a comprarci tutte le case, tutti i veicoli, insomma tutte quelle cose Quindi nei vari episodi faremo diverse cose, sempre cercando di fare soldi Quindi tutte le missioni online, un sacco di cose che abbiamo trovato divertenti Fighe, che portano tanti soldi, insomma di tutto e di più E credo che sarà molto divertente cercare di avere degli obiettivi Ovvero partiamo senza casa Dobbiamo cercare di fare i primi soldi per la prima casa E ovviamente sarà brutta Poi avremo bisogno del nostro primo veicolo E giusto Poi di una casa migliore, insomma, piano piano cercheremo Puoi di conquistare il mondo, quindi insomma, capito? Ci vogliono davvero tanti, tanti, tanti soldi E senza dubbio Comunque, abbiamo iniziato a fare un pochettino lo spunto del personaggio Adesso vediamo l'abbigliamento insieme a voi Che è un po' la parte, secondo me, più importante La parte migliore e più divertente Allora, parte con lo stile da strada Appariscente Oh, vabbè Festaiolo Bagnante Elegante Sportivo Eccentrico Che non credo Che Gioal potrebbe essere un'idea Allora, vediamo con appariscente cosa mi propone Fatto Bellissimo Bellissimo Mi assomiglia parecchio Allora, l'abbigliamento l'abbiamo fatto così Quindi un grigio abbastanza classico Ma vuoi anche spiegare, spiegare il tuo abbigliamento No Comunque Allora, non abbiamo detto con cosa partiamo Perché siamo al primo episodio Non abbiamo una macchina Non abbiamo una casa Con cosa iniziamo a fare i soldi Rapineremo un po' di negozi Proprio in modo classico Uno Ruba la Rubiamo una macchina proprio di quelle brutte Uno sta fuori con la macchina accesa pronto L'altro entra dentro Fa la rapina E ce ne scapiamo E seminiamo a pulizia Cerchiamo di fare un po' di soldini così E vediamo quanto riusciamo a raccattare Nel primo episodio Speriamo bene Andrà malissimo Assolutamente sì Diventeremo poveri E dovremo comprensere Pure in galera Pure in galera E dovremmo comprarci una tenda Al posto di una casa E ce lo dico Inizia a rubare quella dei negozi Perché potrà essere utile Guardate il personaggio di Ferrenichi Mi ci sono impegnata parecchio Sì Sono molto soddisfatta del risultato È uscito bene Sì Dobbiamo andare Sì È uscito bene A rapinare Venga 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 Ci serve prima di tutto Una macchina Secondo me questa è abbastanza brutta Quindi va benissimo Sì Aspetta un attimo Faccio un lavorettino Facile facile Perfetto Allora controllo che non stia guardando nessuno Perfetto Tutto ok? Andiamo Vai sali 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 Secondo te chi è meglio che rapini? Eh non lo so Perché anche se rapino io Che forse è la cosa migliore E poi tu dovresti guidare Il che è pericoloso No io so guidare benissimo Non è un problema quello Eh sì Però il fatto è che forse L'ebbrezza della prima rapina Lo volevo io Capito? Non lo so Dai facciamo che la prima fai tu La seconda io O entriamo insieme Entriamo insieme Facciamo proprio ladrine spesi Allora facciamo così Uno lo distrae E l'altro è l'altra rapina Giustamente Lasciamo la macchina aperta qua Ok Pronta? Pistola ce l'hai? Sì Hai tutto? Sì Entriamo? Entriamo Andiamo Mani in alto Dacci i soldi Dice di urlare sul microfono Scusami puoi dare anche quella rivista lì dietro Sai mi interessa La smetti per favore Qualcuno mi sta già sparando Ok la polizia Sì è fuori Pensaci tu Pensaci tu Scappa 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 Sì 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 Mi hanno ucciso Mi ha spaccato la faccia Mi hanno ucciso No La mia prima rapina è finita malissimo È arrivata la polizia Dove sei? Pronta a salire su Sì sì Pronta veloce Eccomi 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 Vai Corri Che emozione Scappiamo Abbiamo due o tre stelline Eh due Ok Ok ce la possiamo fare a seminarle Abbiamo un cartorgio come macchina Ci siamo fatti 1100 dollari Wow bravo Ok Non è male Non è male Però dobbiamo riuscire a seminarli Il prossimo vado io Ok Voglio i miei primi 1000 dollari guadagnati Va bene Con fatica Mi sembra giusto Con un duro lavoro Con un duro lavoro Eh perché Non è da tutti Non ci compriamo neanche un motorino Con 1000 Eh vabbè dai Magari ti compri la ruota E poi te lo monti Che ti devo dire Ormai abbiamo seminato la polizia Siamo ancora con il nostro cattorcio E stiamo andando nel prossimo negozio Credo che siccome siamo livelli 1 Ce ne sono solo due nella mappa E l'altro È lontanissimo Non ne posso più Stiamo facendo un viaggio da due ore Per di più guarda Abbiamo il vetro della macchina rotto Tutto sondato Siamo proprio poveri Eh giustamente sì Perché siamo riduci dalla prima rapina Comunque Sì Abbiamo anche scoperto Che non possiamo fare gli incarichi giornalieri Livello 15 Li sblocchiamo a livello 15 Quindi stiamo totalmente nei casini Perché io adesso non so come faremo altri soldi Possiamo fare le guardie del corpo Ok Ci possiamo Capito Proporre come guardie del corpo Per qualche VIP Eh ma ci prendono sicuro Vero? Eh sì Eh siamo bravi Abbiamo la faccia Ci mettiamo? Allora Ma dove siamo finiti a fare una rapina? Io devo dire una cosa Sì Devo fare pipì Ti puoi fermare Dato che stiamo viaggiando da due ore e un quarto No No Ma faccio addosso? Ok Devi concentrarti La rapina questa volta la devi fare tua È deciso così Quindi pronta Infatti non vedo l'ora Non vedo l'ora Sono felicissima Mi raccomando Non fare guai Allora Vai Io ti aspetto Mi aspetti proprio fuori? Eh sì Cioè mi proteggi quindi la spalla Allora tu No le spalle non te le proteggo Dammi i soldi Ok Dammi i soldi Qui fuori è tutto ok C'è uno che si sta guardando le cose E poi mi dice urlando il microfono E sto anche urlando il microfono Ecco me li ha dati Te li ha dati? Grazie Grazie Quanto? Ma li prendo Mi li prendo Sì Cosa è successo? Mi ha sparato Mi ha sparato Io stavo guardando Cioè mi dovevi avvisare Che mi spara Era arrivata pure la polizia La polizia se sta prendendo col tizio Che ti ha sparato Ti prego guarda la scena Un negoziante? Sì Così impare È stato lui Guarda 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 Non ho fatto nulla Guarda Aspetta sto cercando di tornare Mi stanno per sparare Prendi una macchina Andiamocene Io volevo sottolineare quanto sono uno Adesso cittadino Ma non hai fatto soldi? Ma non capiscono Devo controllare Non lo so Non lo so Ho fatto 965 Perfetto 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 Eccomi Sali 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 Vai Ma che dai pugni? Ma che dai pugni? Sali Muoviti Guarda zico zago Sono quasi morta Sono feritissima Sono una macchina in polizia Che ci taglia la strada Vado qui Vado qui che sembra una strada sterrata Oh mamma mia Finiamo malissimo Non so neanche dove andare Non mi puoi far Far finire così In modo triste La mia rapina Allora Già innanzitutto Già innanzitutto Il negoziante mi ha sparato Cioè che ti sembra Tu mi devi avvisare Che dopo che ti dai soldi Ti spara Tu devi continuare a mirarlo Se tu lo lasci perdere Certo Volevo vedere quanti soldi Me l'ho fatto Ti sembra Non te ne eri ancora andata Ti sembra Ti sembra che appena ti giri Un attimo Togli proprio la guardia Ti spara Cioè ma Dove sei mai visto? Mi sembra giusto Ma ci chiamano Come guardia del corpo Che almeno facciamo qualche soldo Sì a me hanno appena chiamato Il seo di questa organizzazione Vuole che diventi un suo associato Ma ci sentiamo? Come? Mi dice dal telefono Ma da quale? Dai messaggi Ah ecco c'è il tastino lì giù Lì giù C'è tipo l'occhio degli illuminati Dobbiamo andare a prenderlo Allora io questa cosa Non l'ho mai fatta Quindi non ho idea Di come stiamo Andiamo con la nostra Ti rendi conto Che non siamo neanche A livello 2 ancora Siamo nella organizzazione Del nostro VIP Cioè ragazzi Guardate che lusso Addirittura la segretaria qua Io sono gelosissimo Cosa dobbiamo fare Signor capo È una capa Signora capa Signora capa Non avevo capito Il Nick sembrava da maschio Esatto 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 Credo che ci stai dicendo Di seguirlo Seguiamo il capo Seguiamo il capo Anche perché fin quando Noi lo seguiamo Riceviamo dei soldi E riceviamo pure esperienza Quindi Fatti la cosa più bella È proprio quella È proprio quella Dobbiamo andare a prendere Un carico E andiamo in elicottero Insieme al capo Cioè Alto lusso qua Arriviamo Siamo basati Da una macchina Che era un catorcio All'elicottero Cosa dobbiamo fare adesso? Noi senza armi E senza proiettili Sicuramente Mi sa che sta dicendo Che dobbiamo farlo noi Lo sai? Get in the van Ok Ok Grazie per le istruzioni Vada Vada Perfetto Ci pensiamo noi capo Ciao Arrivederci a dopo Preferivamo farlo in elicottero Però Dobbiamo Ha detto che ci coprirà Con l'elicottero Bellissimo Questo è È un capo incredibile Anzi una capa Una capa tosta Davvero abbiamo trovato Chi trova una capa Trova un tesoro No no È davvero È davvero figo C'è un player davanti a noi C'è un player davanti a noi Prepara una pistola Io te lo dico Io sono già pronta Sono un po' preoccupato No no Si sta vestendo Preuscito Lo investo nel dubbio Ma lo vuole sparare L'hai visto con la mitraglietta? Sì Sì Ma guarda che era un player Che si stava semplicemente Cambiando i vestiti Poveraccio Vuoi correre i rischi Magari stava facendo finta Ma ci pensa quello con l'elicottero Cioè non devo neanche star sparare Sto più a vedermi il viaggio Io nel dubbio ho investito Non so che dirti Gli ho dato un colpettino Di quelli proprio da amici Una pacca sulla spalla Ok Tanto poi si rialza Non succede nulla Esatto Ok siamo quasi arrivati Un chilometro Un chilometro Quasi arrivati Siamo arrivati Per favore Concentriamoci un attimo Ok bello Eh vabbè era giusto per passare il viaggio Carico consegnato Veicolo con carico speciale Consegnato Ok E adesso Ok Ok Per favore Che succede Ok Eh vabbè ma mi ha dato un sacco di exp Guarda l'esperienza Eh vabbè Da livello 2 a livello 4 io Io sono arrivata a livello 5 Ahà Vabbè perché prima a me Tu sei crashato E mi ha dato l'exp Un po' dell'altra missione Che stavamo facendo Quanti soldi hai fatto? Eh fammi vedere Aspetta Il tuo sei morto una volta Dalla tua ultima paga Il tuo nuovo salario è di 7250 8250 Il nostro capo sta puntando A con lanciarazzi un elicottero Dice solo io posso avere un elicottero Ah no mi sa che Le l'hanno rubato proprio Le l'hanno rubato È molto arrabbiata Sì Vabbè Noi abbiamo fatto il nostro lavoro Nella capa possiamo fare altro per lei O possiamo dileguarci In tutta allegria A farci un bellissimo tatuaggio Per festeggiare questa bellissima giornata Arrivederci Aspetta Posso fare un buon lavoro Per il nostro capo Aveva Ti ricordi che sa C'è quando di sparare Quell'elicottero? Sì Sì Ecco Ci provo io con lanciarazzi Però il problema è che sta più in alto di noi E non riesco nemmeno a mirarlo Eccolo Eccolo Sparo L'ho colpito Ecco è bravo Ecco è bravo Ecco è bravo Questo è altro per il nostro capo Voglio un aumento capo Sono stato bravissimo 80.000 l'ora Giusto Tanto è pieno di soldi Siamo stati pagati dal nostro capo Allora Ho 7.000 In contanti Che sono La paghetta ogni 15 minuti Quando stai col tuo capo A fare i lavori E poi Io ero a 140.000 In banca E sono a 167.000 Quindi allora I 140.000 Tra il primo episodio e il secondo episodio Troverò un modo di buttarli Perché appunto Questa è un'esperienza Che partiamo proprio da zero Quindi abbiamo 27.000 Più 7.000 34.000 Che spenderemo Per un tatuaggio Cioè vabbè Vediamo quanto spendere Vabbè 34.000 Mi sembra eccessivo Budget limite 34.000 Vediamo un pochettino Anche perché sono molto cari i tatuaggi Qua davvero Te li fanno pagare tantissimo Allora Vediamo cosa c'è Allora Buongiorno Allora non scegliere qualcosa di troppo brutto Facciamo Braccio destro Sennò Ok Ho un'idea geniale Troppo 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 incredibile Ovvero Nella schiena c'è un tatuaggio Che si chiama fratelli Per sempre Brothers for life Stai scherzando? Lo facciamo? No aspetta È davvero brutta Fratelli per sé Ti prego Io accetto Io accetto di fare Brothers for life Tu accetti Senza neanche guardare Aspetta fammi dare Almeno un occhio a tagliare Non ci può essere nulla di meglio Dici Non ci può essere niente di migliore Cioè rappresenta ciò che siamo Fratelli Non siamo fratelli eh No siamo fratelli nel crimine Fratelli nel crimine Dentro il gioco Eh dai Io ho un po' di rughe nella schiena Andiamo? Ci sto Ok Ricordati di non toglierti mai la maglietta Esatto Almeno non si vede Però noi nel nostro cuore Sappiamo che siamo Brothers for life Io ti giuro Quando ho visto quello Sono morta Volevo scegliere qualcosa di più carino Ma dai Più gangsta di così Che pretendi Voglio fare un recap Perché è molto divertente Il nostro capo è venuto a prenderci Capo Ci stavamo facendo i tatuaggi Mentre lui Aspetta 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 Questo Scusi Il capo non lo tocchi eh Oh 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 Picchialo Picchialo Ma cosa stiamo facendo? Capo Ok Tutto a posto Saliamo nel ricotto Lo stesso Dicevo Volevo fare un attimo Un recap dei soldi Quindi avevamo guadagnato 34.000 Ne abbiamo speso 9.000 Era carissimo 10.000 Carissimo Abbiamo guadagnato 24.000 Totale Per questo Primo episodio Quindi abbiamo totalmente buttato 10.000 Ma adesso siamo dei Brothers for Life Quindi sinceramente Ne vale la pena Hashtag Brothers for Life Hashtag Brothers for Life E siamo Dai scusa Era giusto Io volevo un totale Che rappresentasse Questa nostra giornata Più rappresentata di così Non so Sono pienamente d'accordo Guarda Si merita anche il titolo del video Dicevo Che siamo anche già quasi a livello 6 L'obiettivo sarà Arrivare a livello 15 Così avremo gli incarichi giornalieri Esatto Che ci porteranno un bel po' di soldi Quindi anche quello sarà molto importante E magari consigliateci nei commenti Se avete qualche idea per fare soldi Abbiamo già pensato ovviamente A rapine in banca Missioni divertenti Vari deathmatch Vari tipi di gare Poi c'era Anche ovviamente Può diventare dei vedi I propri VIP Quando avremo i soldi Ma già questo paga davvero tantissimo Il traffico delle macchine Sarà divertentissimo Però quello ci serve il garage Quindi dovremmo prima comprare la casa Giustamente Esatto Insomma un sacco di idee Poi proponetecene tantissime Così ci divertiremo un sacco E ovviamente fateci sapere Se vi piace questa idea di serie Bene che ci riuscite Se vi è piaciuto Lasciateci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao